Tradizione ed innovazione si fondono per garantire ai tarantini uno spettacolo di elevata qualità ed un'occasione per portare alla ribalta le personalità che hanno dato lustro al territorio nei diversi ambiti di competenza. Si presenta così l'edizione 2011 di Notte delle Stelle, premio Città di Taranto, la kermessa ideata ed organizzata da Bluestar TV, che torna nella sua veste originaria. L'appuntamento con quello che si preannuncia come l'evento dell'estate 2011 è in programma sabato 16 luglio nella Villa Peripato di Taranto. Sul palco a presentare la serata l'affascinante Natalì Caldonazzo, cui si affiancheranno le gag del noto cabarettista del bagaglino Carlo Frisi. Poi il momento clou. Per Bluestar TV torna Taranto, Peppino Di Capri, che farà rivivere al pubblico presente momenti indimenticabili, proponendo pezzi classici del suo ricco nonché collaudato repertorio. Nel corso della manifestazione la consegna del premio Città di Taranto, patrocinato dall'amministrazione comunale. La giuria non ha ancora svelato i nomi delle personalità che quest'anno riceveranno l'ambito riconoscimento. Negli anni, Notte delle Stelle, premio Città di Taranto ha portato il Rivalo Ionio, artisti del calibro di Melba Ruffo, Nino Frassica, Albano Carrisi, Marra Venier, Danny Mendez e tante altre stelle del mondo dello spettacolo.